La mostra nazionale del cavallo compie 50 anni, gare internazionali, saloni del turismo rurale dell'eno gastronomia, spettacoli equestri tornano a città di castello. Oltre 400 cavalli, più di 200 espositori in una tra le più antiche fiere di cavalli d'Italia. Mostra nazionale del cavallo, dal 9 all'11 settembre. Entra nel Regno Equestre!